bello a tutti ragazzi e ragazzi sono il vostro caro maestro king e benvenuti in questo nuovissimo video come potete vedere ho scaricato il GTA V e quindi direi che possiamo tranquillamente cominciare con la storia e se non sbaglio da parte dell'online si potrà ottenere dopo aver completato la storia quindi direi di partire subito la storia per cercare comunque di farlo e tutto quanto diciamo che sono uscito a ottenere GTA perché in questi giorni sulle epic games è uscito il gioco gratuitamente e quindi l'ho preso diciamo ok parliamo di una rapina non so se si ok questa è la pausa ok con V possiamo cambiare la visuale in prima persona in questo modo ok qualcuno se l'ha fatto male come è possibile che sia ok con C ok a muoverci non possiamo muoverci ok si stanno muovendo tutte e due quindi la cosa che dovevo fare per far rimuovere era praticamente sparati contro ok 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 il direonatore è stato attivato ok ok per andare devo andare da questa direzione non posso correre a quanto pare a quanto pare no però saltando verrebbe che che vado leggermente più veloce ok ora dobbiamo possiamo andare ok 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 con alta posso cambiare personaggio ok si cambia il tipo di 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 camminata ok o si preme Q per cambiare e lasciare il riparo oppure si ricomincia a cambiare proprio un'altra volta ok Grazie a tutti! Ok, praticamente devo far fuori i vari poliziotti per poter scappare Fuori un altro Ah, questo rimane lì Ok, a quanto pare è rimasto l'ultimo e dovrebbe stare in questa zona qui Ok, e quindi a quanto pare possiamo scappare Ah, non ho fatti per niente Quasi tre con un colpo solo Possiamo in qualche modo usare l'auto per scappare? No, eh Eh, su quale auto? No, su questa non credo, ci faranno salire Ah, ok, sta più avanti Quella sulla quale dovremmo salire, credo Ah, ok, quindi la nostra Ok, premendo F Ci danno la possibilità di salire e quindi di scappare Ok, ovviamente comunque ci stanno inseguendo Ok, e quindi pure la polizia è stata In qualche modo Ok, sono rimasti circa 600 500 metri per arrivare al punto di destinazione Ok, sono andato fuori strada però A quanto pare sono riuscito ad arrivare pelo pelo A destinazione Ok, stanno ridicando Perché uno vuole scappare il più velocemente possibile E l'altro vuole usare il Ok, due sono rimasti lì Ok, stiamo scappando Quindi in qualche modo Quindi in qualche modo Uno di noi è riuscito a fuggire Ok, ora praticamente Sono nel funerale di uno dei Delante Ok, quindi a quanto pare questo è stato Il primo episodio della storia Quindi in qualche modo Quindi in qualche modo episodio della storia si conclude qui allora spero che questo video vi sia piaciuto se così è stato mi raccomando lasciate un bel mi piace di iscrivervi al canale e di seguirmi su Twitter e Instagram Facebook ovunque voi vogliate io vi saluto e ciao a tutti voi Ciao